Sabato e domenica la Spezia diventerà un grande campo sportivo con le piazze che ospiteranno più di 70 sport. Cos'è questa iniziativa? La Sport in Piazza ha due obiettivi, far avvicinare tutti i cittadini, dai più giovani ai più vecchi, a tutte le discipline sportive e non solamente a quelle più affermate. E dall'altra parte valorizzare la città come spazio dello sport, cioè dare un'idea che anche in città si può fare sport, si può fare attività motoria, si può divertire. Un'iniziativa che ha coinvolto tutte le associazioni e le società sportive di Spezia? Sì, avremo in piazza oltre 50 società sportive e per oltre 70 discipline sportive, che tutti potranno provare, ci sarà anche un premio per i ragazzi che proveranno più discipline sportive. Si svolgerà in tutta la città, partendo qua da Piazza Europa, per proseguire in Piazza Verdi, via Chiodo, Giardini Pubblici, Corso Cavour e Piazza del Bastione. Qualche curiosità tra gli sport che sarà possibile provare nelle piazze spezzine? Dunque, quest'anno per la prima volta monteremo qua in Piazza Europa un intero gruppo di campi regolamentari. Ci sarà il campo regolare di pallavolo, pallacanestro, il ring per il pugilato e le arti marziali, il campo da palamano e il campo da rugby. Quindi ci saranno anche cose che possiamo provare che gli anni scorsi non sono state provate. Poi ci sarà anche quella, una novità, la pista di atletica con i blocchi di partenza che con le società sportive tutti potranno provare l'emozione di una partenza dai blocchi come alle recenti Olimpiadi per provare a vedere che emozioni si provano sui blocchi di partenza.